ciao allora benvenuti in un nuovo video di compro cose a caso da wish e in questo caso io devo avere un problema ma notevolmente serio con le pantofole allora premetto che tutto quello che ho acquistato ho pagato solo la spedizione a un euro quindi tutto quello che vedete un euro singolo sapete che qui l'inverno è molto freddo e io sempre dei problemi per freddo ai piedi e allora iniziamo a comprare delle pantofole queste mi sembravano carinissime ok così sono belle morbidose sono anche belle alte hanno l'antiscivolo un euro ovviamente dato che sono cinesi e prendo un numero più grande questo è un 40 e con le calzettone mi stanno bene e mi sembrano carinissime azzurre e allora perché prenderle solo azzurre ma prendiamole anche rosa e siamo già a due paia poi vi devo mostrare un'altra cosa io ho un problema lo so comunque sia c'è guardate le sono carinissime così forse è un musetto poi è bello perché pelosissimo ha il pelo anche dentro cioè sono carinissime sono belle pelose sempre con l'antiscivolo ed è mi piaceva non so con musettino morbidose fanno un bel caldo quindi gustano poi sempre a un euro poi aspettate vi faccio vedere queste perché potevano mancarmi quelle con l'emoji ovviamente no e allora eccole qua con l'emoji con i cuoricini pelosine anche queste bellissime pelosine gialle con il peletto sempre anche dentro queste belle alte sempre con l'antiscivolo sempre anche questa un euro e non potevo farmi mancare anche queste con la cacchetta ovviamente io credo che per l'inverno potrei essere a posto ho un problema serio e credo che non avrò finito di prendere le pantoffole però di questo tipo io poi dopo le metto in lavatrice si lavano tranquillamente le cambio spesso quindi vanno benissimo fatemi sapere se vi sono piaciute queste cosine condividete il video con la vostra amica o amico che fa acquisti online e di compro cose a caso o che ha una passione per le pantoffole pucciose da casa se vi ho tenuto un po di compagnia e vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così volete avvisato ogni volta che carico un nuovo video alla prossima ciao